segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te le parole di vladimir putin ecco la situazione è che loro sono fortemente addolorati qua in questo momento il 9 maggio non viene festeggiato non ci sono indicazioni pubbliche di festeggiamento ma come vedete alle mie spalle siamo riusciti a trovare alcuni piccoli festeggiamenti tra l'altro a 10 15 chilometri dai bombardamenti mentre cercavamo di entrare in un'area che via via liberata non siamo stati in grado adesso ci riproveremo fra poco ma la chiave interessante è stata questa qui c'è un paradosso totale alle mie spalle ci sono due veterani dell'afghanistan dell'unione sovietica come vedete medagliati poco fa hanno mangiato e non è una celebrazione ufficiale non esistono in questo momento celebrazioni ufficiali del 9 maggio del giorno della vittoria sul nazismo in ucraina ma loro ci tenevano a festeggiare e quando gli abbiamo chiesto ma in questo momento in piazza rossa stanno festeggiando come state festeggiando anche voi però loro sono il paese che vi ha invaso voi cosa ne dite e quanti nazisti ci sono fra di voi è un domanda chiaramente provocatoria che ho voluto porgli loro in particolare quell'ufficiale veterano dell'unione sovietica sì mi ha risposto dicendo dove vedi nazisti non vedi le stelle rosse e in più hanno detto che per loro è fondamentale ricordare ed è fondamentale rendersi conto che in questo momento un paese che era per loro fratello e sorelle erano fratelli e sorelle li sta aggredendo e loro non vedono nulla di quella memoria storica in questa aggressione sostanzialmente come se sono in parte rigettato le celebrazioni del 9 maggio al creminino in piazza rossa il l'altro paradosso è vi faccio vedere un attimo dove sono quella zona est sperando che non si mettano a sparare proprio in questo momento mi auguro di no e qua davanti c'è un monumento lo vedete in fondo dell'armata rossa perché vi sto facendo vedere questo perché poco fa c'era una processione cristiana quindi c'erano soldati dell'afghanistan dell'armata rossa processione cristiana che violando le indicazioni governative di non festeggiare il 9 maggio hanno deciso comunque di celebrarlo e di celebrare la vittoria sul nazifascismo specificando però è con questo chiudo specificando però che questa oggi non è più solo la vittoria sul nazifascismo qua in ucraina ma è anche l'inizio questo è quello che mi ha detto la signora letteralmente l'inizio della nostra vittoria e io ho chiesto quale vittoria la vittoria contro l'invasione che stiamo subendo che per noi è il nazifascismo allora grazie e claudio locatelli per averci restituito questo clima di 9 maggio in un territorio che fino all'anno scorso celebrava e la festa della vittoria sul nazifascismo e oggi la